Che cazzo appende qua? Che cazzo appende qua? Trova la biblioteca Questa cazzo appende qua? C'è cazzo? Questa cazzo appende qua? Questa cazzo appende qua? Oh C'è non me vede proprio questo, non me vede proprio Oh No nessun ehi, salta città Oh Recupera 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 E non recupera un cazzo Oh 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 Leva ti tocca il palle Oh Ok C'è non c'è niente Che cazzo tocchi? Ci tocca Hai capito Hai capito? La lista di Don Poirini Ecco qui Ecco qui Manoscritto di Condorcet È nella vecchia casa rossa E poi ho i nomi E poi ho il nome Eh e ma vado là che stanno nelle guardie voi Si sceglie Devo fuggire la zona cioè io faccio così che che vai là chissà dove guardi non sei bene c'è guarda io vado di qua e me ne esco di qua vedi oh sì che stanno ancora più guardie vabbè va a fa cura sono uguali dappertutto oh qua si esce perfetto ok oh quanti cazzo di soldi